19 febbraio 1945. I Marines americani sbarcano a Iwo Jima, dando il via a una delle battaglie del Pacifico più famose della Seconda Guerra Mondiale. L'isola è con Okinawa di fondamentale importanza strategica, perché il suo possesso consentirebbe ai bombardieri americani di attaccare direttamente il Giappone. Le difese giapponesi sono concentrate sul monte Suribachi, l'arrampicata viene combattuta palmo a palmo. Il 23 febbraio i Marines raggiungono la vetta, dove innalzano la bandiera americana. Il momento viene immortalato dal fotografo dell'Associated Press Joe Rosenthal.